Buona festa della donna. Oggi celebriamo la festa della donna che però è una festa che riguarda delle situazioni tragiche che sono verificate nel tempo a partire dal 1911 quando New York delle donne che volevano scioperare vennero inchiusi in una fabbrica che poi prese fuoco e morirono. Ma anche eventi più recenti, ad esempio nel 1972 una manifestazione diciamo di femministe a cui tra l'altro partecipò anche Jane Fonda venne ritenuta inadeguata perché manifestavano per i diritti diciamo della donna nel mondo del lavoro e anche altre cose vennero presa manganellate. Ricordiamoci appunto il manganello anche recentemente si è scagliato contro degli studenti minorenni e quindi detto questo dovrebbe essere come dire celebrata ma non dissacrata andando a vedere ripilanti spogliarelli maschili come molti sciampiste fanno. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.